La strada continua inoltrandosi all'interno della città, dove si conserva il cosiddetto pilone, un'alta costruzione rettangolare in opera reticolata. L'alto pilastro è interpretabile come uno dei piloni della porta monumentale che indicava l'ingresso all'area urbana. Al di fuori di esso, infatti, sono ubicati i monumenti funerari, mentre, superandolo, si trovano gli edifici pubblici, tra cui, alla sinistra, il Ninfeo.